Ciao a tutti Orchetti di Norco Verde, buonasera a tutti, in questo video volevo informarvi che poco fa gli sviluppatori hanno confermato una nuova arma che sarà presto disponibile nel gioco. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione e lasciate un bel pollice in su al video, grazie a tutti quelli che lo faranno e iniziamo subito. Se in questo momento vi recate sulle notizie dal menu di gioco, ci sarà scritto questo, doppietta presto disponibile, uno nuovo fucile pesante, epico e leggendario che può sparare due volte in rapida successione. Come gli sviluppatori hanno confermato, la doppietta sarà epica e leggendaria. Sicuramente quest'arma verrà rilasciata nel gioco in uno dei giorni di questa settimana, probabilmente anche già domani insieme alla nuova patch. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi di quest'arma, secondo me sarà un'arma OP. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione e da Orkverde tutti noi ci vediamo al prossimo video, bella!